buona domenica a tutti benvenuti ragazzi analizziamo la giornata di ieri con un milan che purtroppo non ha vinto meritatamente direi salernitana completa ha dato non il 100 ma il 110 sapendo di incontrare il mila noi siamo entrati in campo secondo me convinti che la partita si portava a casa senza problemi questo sicuramente inciso molto sul sulla partita e sul risultato finale dove faccio i complimenti alla salernitana perché ha strameritato il pareggio faccio i complimenti a sabatini che ho sempre ritenuto un grande direttore sportivo dove comunque ha cambiato 10 undicesimi ha preso secondo me il miglior allenatore sulla piazza al momento libero dove veramente può credere alla salvezza visto che ha due gare in meno ricordiamoci la salernitana deve affrontare venezia e udinese e non voglio stare a far critica al milan per il semplice fatto che comunque le occasioni ci sono state mike magnan ieri non preciso ha fatto degli errori prima partita dove comunque fa degli errori ci può stare dopo 20 e passa gare per tutti i portieri una una partita no ritengo che potevamo fare meglio perché comunque una partita quando la porti in vantaggio una zero poi a quel punto devi solamente cercare di tenere e chiuderla invece abbiamo sbagliato completamente l'approccio dopo il gol intendo convinti che ormai con l'uno a zero la partita ormai era era in saccoccia e questo sicuramente l'abbiamo pagato molto caro bisogna subito girare pagina pensare all'udinese e cercare di riportarci subito con i tre punti in tasca domenica e continuare la nostra cavalcata sento molto parlare di inter 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 che sicuramente rimane la squadra strafavorita però secondo me si pecca un po di presunzione sul fatto che nessuno considera questo napoli e secondo me è un errore molto grave perché il napoli è una grandissima squadra dove comunque zitta zitta oggi se vince a cagliari va a pari punti col milan non penso che se al suolo possa portare problematiche a questa inter sono molto obiettivo a differenza di altri youtuber interistiche pensano di sapere tutto secondo me non guardano neanche le partite sono molto obiettivo perché tanto loro in ogni cosa vincono non vincono per essere sempre bravi voglio rispondere a qualcuno dove ha detto e al derby due tiri e avete vinto il calcio è questo ragazzi il calcio è questo se il liverpool fa due tiri vince è una grande squadra se altri fanno due tiri vincono non hanno culo partiamo da questo e questa è una cosa molto molto triste triste e comunque il calcio è questo alla fine conta chi fa più gol non quanti tiri fai puoi fare 45 tiri se non fai un gol e ne prendi uno perde uno a zero e ma ho tirato e ma ho fatto e ma abbiamo giocato e no no il calcio non è questo il calcio è tutt'altro bisogna cercare di essere concreti il liverpool insegna e la squadra in europa dove ha vedevo dei dati l'altra sera al 90 per cento della della concretizzazione con tre palle fa due gol con due tiri fa due gol con cinque tiri fa tre gol queste sono le squadre le squadre dove veramente sono concrete l'inter rimane strafavorita e non c'è dubbio l'ho detto sempre ve lo continuerò a dire e poi vedremo perché il calcio insegna e ci ricordiamo lo scudetto dove l'inter ha perso con la lazio fuori fuori casa e lì e la juve vinse a udine quell'anno sembrava scontato il campionato e invece non lo è stato ci ricordiamo l'anno di perugia dove la juve perde un a zero e quindi perde il campionato eccetera eccetera e avanti così quindi io penso sempre che bisogna stare con i piedi per terra perché io ho sempre dell'idea che parlare prima non serve mai a niente sicuramente se mi dicono l'inter è favorita sì ovvio l'inter è favorita assolutamente e non si discute però vedremo sicuramente come sarà il cammino di questo campionato dove comunque ancora secondo me riserverà delle sorprese questo non vuol dire che il milano vince il campionato come magari qualcuno può pensare di voi poi chi lo sa vedremo staremo a vedere sicuramente il nostro mercato è più sulla linea verde sui giovani Maldini ha fatto un grandissimo lavoro ha trovato dei talenti dove spolveravano le panchine e ora invece sono dei campioni dove sono ricercati da grandi squadre con cifre anche molto molto importanti ci tenevo solo a precisare che questo campionato è molto bello è molto bello perché erano tanti anni che non si vedeva una lotta così e questo è molto molto bello io mi auguro che da qui ai prossimi anni sarà sempre così perché veramente è il divertimento è la cosa bella del del tifoso la lotta essere tutti lì sembra ma se oggi l'inter vinceva 57 il napoli vinceva 56 siamo di nuovo a inter 57 mila napoli 56 certo l'inter ha sempre quella gara in meno e quindi l'inter potenzialmente vincendo oggi potrebbe essere poi a 60 con un più 4 però ci sono ancora tante partite insidiose ieri è stata la prova ma non perché adesso voglio fare il protettore del milan perché così niente scontato nel calcio di scontato non c'è niente zero tutte le partite vanno affrontate giocate al massimo e il milan ieri poteva fare di più questo sicuramente non lo ha fatto e abbiamo pagato a caro prezzo stasera ci sarà sassuolo inter sassuolo che è una bella partita ripeto l'inter per me sarà favorita non penso abbia problemi e quindi tornerà a 57 cagliari napoli sarà una gara molto importante un esame per spalletti che io ritengo un grandissimo allenatore l'ho sempre detto quando era l'inter che secondo me era da tenere ma hanno scelto conte che gli ha fatto spendere 200 milioni per poi neanche passare il girone in zagli ha fatto molto meglio di conte fino a ora perché comunque è arrivato agli ottavi di champions e questo gli va dato atto con lo stesso girone che ha avuto conte quindi non si può dire conte ha avuto un girone facile l'altro ha avuto il girone difficile no stesso girone mi auguro che il milan si tiri sulle maniche in settimana si lavora come si deve e si pensa la partita udine e poi tutto il resto non conta nel calcio le parole non fanno testo quello che fa testo il risultato finale ripeto 10 tiri 4 tiri e la parata del portiere quello se non c'era magnan col derby se non c'era magnan magnan è un portiere fa parte del milan quindi non è se non c'era magnan non è uno che è sceso abbiamo giocato in 12 fa parte della della formazione rossonera come un andanovic come uno scesli se un portiere fa un grande fa di grandi interventi è pagato per fare portiera come l'attaccante è pagato per fare gol il difensore è pagato per non fare in modo che non prenda gol e eccetera 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 quindi quando si parla di calcio bisogna essere molto precisi a volte vedo delle delle informazioni date molto scorrette molto più a favore io sono tifoso del milan e se devo criticare milan lo critico vedo altri youtuber che invece nada nada la critica proprio no 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 si cerca sempre un qualcosa e hanno fatto solo due tiri e la traversa e la parata ragazzi calcio è questo calcio fatto di traverse parate pari fuori giochi var eccetera mettiamocelo in testa poi se si vuole andare a cercare sempre un qualcosa in tutte le partite si trova ma io sono una persona molto obiettiva conosco il calcio seguo il calcio e la serenità non ha strameritato ieri il pareggio strameritato ripeto faccio i complimenti a nicola che ritengo un grandissimo allenatore basta vedere quello che ha fatto a crotone a genova torino e adesso quello che ha già iniziato a fare e quindi prima di parlare io aspetterei sempre la fine del campionato ma giusto così per rispetto buona domenica a tutti un abbraccio e ci vediamo presto e comunque forza mina sempre